E bentornati qui dal Masters of Review ragazzi Che cosa abbiamo qui? Abbiamo un bel pacchetto direttamente da Amazon Come possiamo vedere qui dalla scatola Dove c'è la faccina di Amazon Andiamo a vedere però che cosa c'è all'interno Questo pacchetto E si ragazzi è proprio lui Il DVD del film di Broly di Dragon Ball Super Guardate che figata ragazzi Naturalmente la Collector Edition è edizione Blu-ray Andiamo a vedere il retro The Strongest Science Arrives L'ho preso in inglese ragazzi Perché non mi andava di aspettare quello italiano Che usciva molto dopo Tanto a me mi interessa la lingua giapponese E lo qualazzi Earth is at peace after the tournament of power Goku knowing that there are stronger forces in the universe He has yet to encounter Spends all of his time training to achieve another level One fateful day a Saiyan appears before Goku and Vegeta Who they have never seen before Broly How can a Saiyan who had all supposedly been animated after the eraser of planet Vegeta appear on Earth With the return of freezes from Earth A first battle awaits these three Saiyans Who have followed completely different these destinies Eccolo qua Realmente figo ragazzi Guardate tutte le immagini del film Ma andiamolo ad aprire perché all'interno ci sono un sacco di belle cose Oltre naturalmente al film Ah naturalmente lo abbiamo con la nostra fidata croce di Mioc E stavo dicendo Oltre al film naturalmente che È il principale motivo per cui lo ho comprato Però ci sono un sacco di cose fighe Guardate qua La copertina già intanto è veramente Figa Guardate come brilla Andiamo a vedere cosa c'è all'interno Qua non c'è niente Però all'interno ci sarà qualcosa sicuramente E infatti ragazzi qua ci sono Le stickers Ecco qua Guardate se lo stavo fighe Le quattro stickers Del film di Broly Ecco qua Ovviamente fighe E in più abbiamo anche il poster Originale naturalmente Questo lo apprenderò Qua nella mia soffitta The movie Dragon Ball Super Broly Qua ragazzi Figata Figata pazzesca Su che Contoni Naturalmente non so mai come si chiudono questi poster Hanno tutta Tutto un suo ingegno Particolare Che non riesco A decifrare Ah forse qua si E qua c'è il Blue Ray naturalmente Eccolo qua The movie Broly Sotto al DVD ci sono C'è sempre la copertina Andiamo a vedere un attimo questi stickers Come sono fighe Ci sono Broly Goku Super Saiyan God Vegeta Super Saiyan God Blue E Freeza naturalmente Beh potremmo mettere anche Gogeta Visto che è presente nel film Ups Spoiler Ma gira dappertutto Questo spoiler Quindi Eccoci qua ragazzi Adesso me lo vado a vedere E Vi dirò Vi farò una recensione E vi dirò Com'è questo film Dal Masters of the Review ragazzi è tutto Mi raccomando Iscrivetevi al canale Lasciate un like se vi è piaciuto questo video E ci vediamo alla prossima Con nuovi e fantastici video Ciao ragazzi Ciao ragazzi